Ciao compagni, ciao amiche e amici di Padova, mi dispiace molto di non essere lì con voi, purtroppo ci sono dei dentisti che mi hanno massacrato. Mi hanno chiesto di parlare del 77, di come l'ho vissuto, di introdurre un po' la discussione su questo tema, la prendo abbastanza da lontano, e cioè il 77 sono già quasi dieci anni dopo il 68 e voi sapete come questi dieci anni dal 68 al 77 ci sono stati anni di continue lotte in cui sempre c'è stata una presenza operaia, studentesca, intellettuale, proletaria in generale sulle piazze contro quello che era il tentativo già allora fortemente organizzato di introdurre una nuova regolazione neoliberale in Italia. Ed allora, è dal 73 più o meno, che questo sforzo capitalista di nuova regolamentazione della produzione della vita si è introdotto con forza. Dico della vita, più e non solo più della produzione, della vita vuol dire di tutta la vita ed è su terreno appunto della vita che si è organizzata la resistenza. Milano per esempio, dove io militavo, è stato un luogo nel quale dalle occupazioni delle case alle appropriazioni nei supermercati e dalle lotte per prendersi gratis i trasporti e il cinema e i teatri e i concerti e dove i quartieri si erano trasformati in luoghi nei quali organizzare insieme la vita. Ecco, tutto questo accompagnato dalla lotta contro la droga che era usata allora dal potere per dissolvere quelle che erano le comunità operaie proletarie che si erano costruite, bene ecco, è su questo terreno che si costruisce in maniera assolutamente continua l'organizzazione dell'autonomia di classe, della classe operaia. Certo, ma di una classe operaia che era già diventata molto diversa. Era una classe operaia che non era più semplicemente nelle fabbriche ma era ormai nella città. I padroni la buttavano fuori dalle fabbriche, gli operai si organizzavano la loro sopravvivenza e la loro produzione nei territori, nella metropoli e su questi spazi veniva riorganizzandosi e ritrovandosi il proletariato giovanile. Questa è stata la grande esperienza di quel periodo, un'esperienza nella quale le lotte operaie si sono spostate dalla fabbrica al territorio. A Milano non c'è stato un 77 come a Bologna o a Roma, c'è stato un 77 che era cominciato nel 74-75, subito dopo la grande sconfitta nelle fabbriche che datano dal 73. Subito dopo che l'autonomia si era formata non più semplicemente come elemento che guidava le lotte o che interpretava le lotte nella città, ma nella fabbrica scusate, ma nella città appunto sul territorio. Dall'operaio massa di fabbrica eravamo passato all'operaio post-industriale, sociale, all'operaio che man mano poi si sarebbe qualificato nella conoscenza, nella capacità di guidare e di sviluppare servizi, che si sarebbe fondamentalmente riconosciuto nella cooperazione sociale, ecco, e nelle capacità intellettuali di condurre la produzione. Tutto questo dentro uno sfruttamento che ormai passava non più semplicemente nella fabbrica, non più semplicemente organizzato dai capi, non più semplicemente organizzato dal capitale fisso, diretto e immediatamente controllante, quelli che erano i movimenti della forza lavoro, ma attraverso quelle che erano tutta la serie, larga serie, di strumenti di controllo della vita, della vita sociale, della vita metropolitana.